non so il segno che voglio lasciare allora nel 2006 mi era ballenata un'idea che poi ho trasferito in una quarantina di quadri tutti della stessa misura tutti con lo stesso colore questo nero e questo e questo blu e praticamente avevo scelto di dipingere una ventina di persone che su di me di grandi artisti e di grandi musicisti che su di me hanno lasciato una grande traccia no e qui ho dipinto lucian freud francis bacon ho dipinto gianluisi trovesi per cittarne alcuni gerard ritter de koenig emilio vedova e poi gli altri 20 invece ho scelto di fare dei miei amici proprio vicini a me che probabilmente lasciano hanno lasciato oppure mi lasceranno una traccia solo a me o al massimo i miei figli e qui parlo dei miei genitori e miei suoceri parlo di alcuni amici che ho frequentato e che frequento ancora e niente io non so che tipo di traccia potrò lasciare di sicuro lascia lo studio i miei figli e centinaia di disegni e di quadri dei miei figli poi non so cose loro ne faranno comunque ecco diciamo che ho avuto il piacere di dipingere diciamo che avevo scritto una frase moltissimi anni fa che adesso non so se mi ricordo a memoria che era che la mia solitudine era la mia pittura che era anche l'espressione o signore l'espressione di segni di diritti magici di ricerca di libertà che trovavo nel mio studio ecco soprattutto ho passato moltissimo moltissimo tempo a dipingere in solitudine ma che ma che comunque mi ha ripagato perché penso di essere stato non dico un eletto dico che veramente la pittura mi ha un po salvato mi ha non so sì in effetti la pittura mi ha salvato penso di essere un eletto di essere stato un eletto come molti pittori che dipingono non per la gloria o così ma per se stessi fondamentalmente siamo dagli eletti gente che viene ripagata dal nostro lavoro secondo me dal mio punto di vista fatta con semplicità naturalmente con i miei limiti e penso di aver comunque fatto una serie di opere abbastanza buone insomma poi il tempo giudicherà non so si vedrà vedremo ma se fa cento anni si scoprisse un tuo quadro fa cento anni chissà cosa ti piacerebbe che uno dicesse di questo di questo artista non lo so non lo so se 300 anni qualcuno scoprirà un mio lavoro comunque sicuramente non mi avrà conosciuto però posso dire che sono una persona semplice con un bagaglio culturale del ragazzo di terza media ho imparato tutto leggendo l'autodidatta frequentando tantissime mostre comprando tantissimi cataloghi e soprattutto una persona molto curiosa ecco non sono mai stato geloso di nessuno mio mio amico artista anzi quelli che hanno fatto fortuna dei passi nell'ambito artistico italiano ne sono sempre stata molto felice quando ho potuto aiutare una persona l'ho aiutata volentieri e niente naturalmente questo che scoprirà un mio quadro tutte queste cose non le saprà magari scoprirà questo video scoprirà questa grande raccolta che alberto sta facendo nell'ambito bergamasco una cosa che mai nessuno aveva avuto il coraggio e la forza di farlo con una qualità così professionale così magistrale con dei mezzi che solo nel suo studio si possono vedere ecco magari se vedrà questo video potrà capire qualcosa di più del quadro che ha trovato del facchinetti e ringrazio alberto perché spero che questo suo grande progetto di progetto di assemblare in questi filmati 100 artisti 100 interviste va da buon fine e che la provincia se ne faccia carico se ne faccia carico perché rimarrebbe un grande documento sia per noi e sia anche per tutto il valore che alla provincia di bergamo perché la provincia di bergamo è ricca di artisti di musicisti di critici d'arte di curatori e sarebbe veramente un'opportunità grande grazie alberto